Grazie Presidente. Io penso che sia veramente strumentale continuare ad affermare che la Commissione Commercio non ha effettuato una consultazione dei portatori di interesse. Io penso che sia anche strumentale che voi ci chiedete di continuare ad incontrarli. Incontrarli ed ascoltarli non vuol dire recepire e la vera prepotenza è voler imporre per forza il proprio punto di vista quando non è condiviso nelle scelte politiche. Allora si ascoltano tutti, perché noi ascoltiamo tutti. Poi, come già hanno ribadito sia il consigliere Goya che il consigliere Ferrara, quando le cose non sono in linea con quello che noi vogliamo portare in questa città, allora mi dispiace tanto, ma non possiamo recepirlo. Un conto è ascoltare e un conto è recepire. Recepire vuol dire farlo diventare atto e se noi non concordiamo non è la nostra linea politica e non si fa. Grazie.